Un'importante vittoria per te, sei uscito per un infortunio? No, per Crampi, ho avuto verso la fine un po' di Crampi e sono uscito, quindi è preoccupante. Un como che ha girato a milo, diciamo anche con Ardito, un como che ipoteca a questo punto, non oso dire cosa, ma è evidente che a questo punto le cose sta mettendo bene. Sono in parte d'accordo perché comunque, come ha detto Andrea, il nostro obiettivo di oggi era fare il più massimo per questa gara e il massimo voleva dire appunto riuscire a ottenere un buon risultato, come è stato, però le partite ne ho giocate tante, io e tante anche i miei compagni come Andrea che è uno dei più esperti e sappiamo benissimo che non abbiamo fatto niente perché il Bassano ha tutte le qualità per poter ribaltare eventualmente il risultato, quindi noi abbiamo un buon margine, però dobbiamo andare a Bassano e fare la stessa partita che abbiamo fatto oggi con personalità, giocando quando è possibile un buon calcio e soffrire come abbiamo fatto oggi perché penso che era impensabile non soffrire contro una squadra come il Bassano.